ciao ragazze questo sarà un video in collaborazione con la bellissima Eleonora Eleonora Manni ti mando un bacio Ele grazie per aver collaborato con me vi lascio giù nell'info box il link al canale di Eleonora e il link al video in collaborazione con me ringrazio ancora Ele per aver accettato di collaborare con me per questo video dove praticamente vi recensiremo la palette in edizione limitata di Too Faced la pretirebbe e vi faremo un face of the day con un trucco realizzato proprio con questa palette sono molto contenta che Ele ha accettato di collaborare con me ho approfittato perché sia io che lei ce la siamo fatta regalare per il compleanno e dato che è una palette in edizione limitata e se qualcuno di voi è interessato all'acquisto ve la vogliamo recensire per un acquisto futuro io vi parlerò della mia esperienza anche col sito di Beauty Bay perché i miei amici l'hanno acquistata da questo sito e niente ho sbocciato vabbè ho sbocciato solo un colore perché gli swatch della palette sicuramente dalla webcam non rendono quindi io se riesco tramite l'editing vi metterò a fine video le foto con il flash senza flash degli swatch di questa palette però durante il video vi ho voluto fare una vi ho voluto comparare insomma i vari ombretti che ho come diuppo del club di MAC o camoleonte di Neve Cosmetics ma in questo caso il club di MAC è l'ombretto per eccellenza di questo colore e niente inizio subito con la box cioè la scatolina della della palette che è davvero molto molto curata io per esempio l'ho paragonata alla scatolina che aveva la naked e non ha paragone davvero innanzitutto è dorata come la palette e il rilievo porta questi nastrini con la scritta Too Faced sempre in rilievo e la Pretty Rebel sempre in rilievo porta a lato insomma questa scrittina Too Faced sempre laminata con l'oro e dietro praticamente porta tutti i colori degli ombretti e le borchettine che incorniciano il tutto questa palette è caratterizzata da 10 ombretti ognuno per 1.5 grammi di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi è prodotta nella Repubblica Dominicana come la Naked 2 è davvero fantastica mi piace molto è davvero molto molto curata una volta aperta insomma la scatolina all'interno troviamo questo brochure sempre della Too Faced dove praticamente vi fa vedere tre look da realizzare con questa palette abbiamo il primo look che è il Rebel 9 to 5 il Pretty Rebel e il Rebel Rocker e praticamente in inglese vi aiuta vi da delle indicazioni su come realizzare questi look io per ora ho realizzato solo questo il Pretty Rebel perché comunque è molto molto carino come look e ve l'ho messo anche su Facebook non so se ci somiglio o meno magari me lo dite voi e comunque niente come al solito Too Faced mette le sue guide anche in questa palette questo è la letterina che poi si chiude in questo modo vedete con questo particolare con la borchetta molto molto carino poi vi faccio vedere subito la palette allora vi dico già che l'unica cosa che magari mi è dispiaciuto non poter trovare all'interno di questa palette praticamente niente cioè non ha uno scompartimento per una matita un pennello oppure se potevano mettere insomma qualcosa vicino a questa palette secondo me potevano insomma inserire uno scompartimento o per una matita o per un pennello questo non toglie che una palette davvero fantastica allora lo specchio è tutto incorniciato come potete vedere da queste borchette disegnate non sono in rilevo ma sono disegnate in cartone però come potete vedere creano questo effetto ottico molto molto bello lo specchio è molto molto grande la palette è in cartone il packaging è laminato oro con questi nastrini proprio tipo velluto in rilevo la scritta to face e il nome della palette in rosa con questo coricino molto molto bello dietro abbiamo sempre la descrizione della della palette è scritto in inglese quindi non vi saprei dire cosa significa comunque parla di dicembretti da utilizzare non voglio dire non voglio dire bagianate quindi preferisco non pronunciarmi comunque vi ricorda che sono dicembretti per 1.5 grammi di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi sempre questa qui prodotta nella repubblica domenica made in usa vi faccio vedere la palette aperta e questa e questi sono i colori come potete vedere sono dei colori molto molto belli e potete ricreare sia look da giorno che look da sera quindi è una palette molto versatile perché all'interno abbiamo allora due ombretti dal finish mat che sono il Denti che è un panna molto molto bello per coprire tutte le scromie della palpebra anche per un trucco stile pin up infatti per scurire l'angolo esterno potete usare Sherming che è un bellissimo tono di marrone un marrone molto molto scuro che vira quasi al nero ed è quello lì che ho utilizzato si sfuma facilmente davvero ottimo ottimo ombretto poi abbiamo il finish perlato e shimmer l'unico dal finish shimmer glitteroso è il Miss Sparkles che è questo nero pieno zeppo di glitterini che mi ricorda molto l'illusion d'ombra di Chanel quello lì nero con i glitterini argento è davvero super questo ombretto qui scriventissimo davvero anzi secondo me è il più scrivente tra tutti e un nero super super intenso è difficile da trovare in una palette comunque andiamo per ordine poi abbiamo il ring glitter che è questo rosa salmone molto molto carino molto tenue che si può utilizzare sia per illuminare l'arcata sopracciare che il condotto lacrimale oppure da utilizzare per un trucco più naturale come ho fatto su tutta la palpebra mobile e poi nella piega andate ad utilizzare Charming esce fuori davvero un bel trucco tra l'altro mi ricorda anche quel rosino tere presente nella Naked e nella Naked 2 quindi è molto molto simile come colore poi abbiamo Gangsta che mi ricorda moltissimo anche un colore presente nella Naked e nella Naked 2 che è un marrone satinato molto molto bello il più particolare a detta di tutti è il girly che è questo duo chrome e questo ve lo sguoccio perché ve lo voglio paragonare agli altri ombretti che ho sempre che riprendono un pochettino questo questo colore allora questo qui è il girly della della Pretty Rebel e come potete vedere rispetto magari agli altri agli altri ombretti è molto molto più chiaro ha una base marrone rossiccia ma prevale molto di più il duo chrome verde rispetto vedete agli altri questo qui è il girly questo qui è l'ombretto che ho trovato nella palettina che mi ha regalato Mara questa qui ed è l'ultimo questo qua non ha numero non ha niente la palettina è di questa marca qui poi al più sopra qui questo molto molto scuro ad esempio le perlescenze del girly sono di un verde più chiaro mentre questi altri tre qui il verde è quasi un verde scuro un verde smeraldo che vira all'azzurrino e quest'altro qui sopra che vi ho sbocciato è lo shade 12 di Mua che è lo shade 12 della linea pearl che riprende molto il girly però vi ripeto è molto molto più chiaro come ombretto e sopra abbiamo un altro ombrettino che è della crema lux mineral è un ombretto minerale ed è il plum tree questo qui mi è stato inviato anche con altri campioncini e riprende moltissimo il girly che molti l'hanno paragonato al dupe del club di macco al camaleonte di neve cosmetics comunque la differenza sostanziale che ho notato tra questi quattro ombretti è che il girly è molto molto più chiaro come colore anche quando voi lo andate ad applicare come nel mio caso vedete rimane molto chiaro sulla palpebra molto più luminoso mentre questi altri qui come potete vedere sono più scuri predomina moltissimo il marrone mentre qui tende ad uscire fuori di più il riflesso verde non so se mi sono fatta capire insomma poi un altro colore molto molto bello che mi ricorda la matita cedrata di neve cosmetics è instigator che è un bellissimo oro è molto molto particolare perché non è il classico insomma oro ma è molto molto bello vira quasi al giallo molto molto particolare ed ha un finish satinato sheer un altro colore bellissimo che ho utilizzato anche qui sotto si nota pochissimo il trucco infatti vi ripeto se riesco vi metto a fine video la foto di questo trucco e insomma gli swatch della palette se no io vi rimando al mio profilo di facebook vi lascio sempre giù nell'info box tutte le informazioni per essere sempre aggiornate mi fate la richiesta di amicizia io accetto tutto non vi preoccupate e mi fa piacere insomma vi metterò poi lo swatch di questo qui che è davvero molto molto bello ecco ed è il total effects che devo dire la verità ho utilizzato molto anche se è un colore molto particolare che ho visto varie recensioni non a tutte piace e non a tutte lo andrebbero ad utilizzare per gli occhi io invece devo dire che è molto molto carino come effetto fa davvero un effetto molto particolare risalta risalta moltissimo di occhi chiari in questo caso i verdi ho notato questa cosa e la combo total effects comba da bedas è bellissima questo è anche un bellissimo colore è un blu molto molto shimmer strautilizzato cioè non so se notate la fossa del blu e ce l'ho neanche una settimana questa palette l'ho utilizzata sempre poi ho utilizzato anche questo il Miss Sparkless però l'ho utilizzato nella piega non l'ho utilizzato ancora per uno smokey ice sono curiosa come una scimmia di provarlo devo trovare un'occasione adatta per creare un look così drammatico sicuramente vi farò vedere tramite la foto del mio vari look su facebook e poi ho utilizzato moltissimo il Jelly Bird che è un argento molto molto bello anche questo non è il classico argento scusatemi il classico argento scontato ma è molto molto bello è un argento molto chiaro quasi bianco è bellissimo davvero super super duraturo non ha fine non sbava fantastico davvero bellissimo questa insomma ragazze è la palette di Too Faced allora vi do un po' di informazioni sul sito dove l'ho presa ah vi ripeto il packaging è in cartone come la Naked 2 ed è leggermente più piccola della Naked 2 ma davvero di poco si può trasportare facilmente l'unica pecca è che non è bello resistente il packaging come la Naked 2 che è di metallo quindi l'unica pecca è un po' il packaging di cartone allora io l'ho ordinata cioè l'ho consigliato ai miei amici di prenderla dal sito di Beauty Bay perché avevo sentito parlare bene di questo sito e inoltre verso l'Italia offre sempre le spedizioni gratuite però dovete aspettare un pochino più o meno due settimane con le spedizioni gratuite i miei amici dato che comunque la festa era breve hanno scelto le spedizioni con raccomandate ovvero con firma non vi danno il tracking non vi danno nulla semplicemente quando vi arriverà il pacco dovete scendere giù a firmare non ve lo lasciano lo sbaraglio con il rischio che ve lo rubano e è un sito inglese quindi non è soggetto Togana e vi ripeto non viene spedito non vi ripeto non ve l'ho mai detto non è spedito con Royal Mail ma con un'altra compagnia che ho visto tramite il pacco che non conosco e secondo me per questo ci mette tanto ad arrivare deve essere una compagnia tipo delle poste minori rispetto a Royal Mail perché davvero anche quella raccomandata che costa intorno ai 4,30 euro ci ha impiegato due settimane per arrivare quindi davvero tantissimo l'unico modo per avere presso il vostro ordine è pagare 10 euro di corriere e vi arriverà in 3-4 giorni anche perché non date retta a quello che sta scritto sul sito che con la raccomandata vi arriva in 3-4 giorni non è vero niente vi arriva in una settimana a settimana o due settimane come è successo a me poi vabbè dipende sempre dove abitate ma secondo me il tempo è lo stesso per tutti perché ho visto su vari blog vari video che molte ragazze comunque hanno ricevuto il loro ordine dopo due settimane e lo stesso tempo di attesa della spedizione gratuita quindi a quel punto era meglio fare la spedizione normale e ve lo consiglio questo sito perché comunque io l'ho ordinata molto molto prima di quando insomma è arrivato da Sephora cioè quando l'ho ordinata io né sul sito di Sephora né nelle Sephora negozio insomma c'erano quindi ho preferito ordinarlo da lì in questo periodo mi è arrivata la mail è arrivata anche la Vice 2 di Urban Decay quindi potete vedere un pochettino su questo sito è un po' uno scristo perché dovete aspettare tanto per le spedizioni però ve lo consiglio è arrivato tutto in un pacchetto ben sigillato tutto integro perfetto e niente ragazze vi faccio vedere il trucchino del giorno che ho realizzato con questa palette allora sull'arcata sopraccigliare come potete vedere ho utilizzato denti e ho truccato come prima cosa l'arcata sopraccigliare nella pieda dell'occhio sfumato verso l'interno dell'occhio con un pennellino da sfumatura ho utilizzato Charming che è un bellissimo marrone molto molto scuro si sfuma come potete vedere che è una bellezza poi quasi allora tutta la palpebra mobile lasciando libero il condotto lacrimale ho utilizzato Girly eccolo qui che come potete vedere è molto molto chiaro come colore molto luminoso mi piace molto perché dà luce proprio al al viso è molto molto bello e l'ho applicato insomma su tutta la palpebra mobile lasciando libero lo spazzetto per il condotto lacrimale dove ho applicato il stigator che ho sfumato verso Girly come potete vedere e dà questo vedete questo punto luce è molto molto carino poi ho applicato un eyeliner liquido nero e sotto che purtroppo non si vede una mazza forse se mi metto così sì ho applicato questo colore qui il Totally Fetch questo fucsia molto particolare come base ho utilizzato una matita bianca in questo caso questa qui della Vitaminox poi nella rima interna ho utilizzato questo matitone di Essence che è bellissimo vedete ed è lo 03 Turquoise e molti di voi me l'hanno chiesto quando ho pubblicato la foto su Facebook che matita avevo e mi avete chiesto anche il rossetto su tutto il viso mi sono dimenticata di prenderli ho utilizzato l'illuminante le perle della Essence dell'edizione limitata me and my ice cream e come blush un blush di Catrice sempre di un'edizione limitata che non mi ricordo il nome comunque fucsia molto molto lieve però ne ho applicato davvero pochissimo è anche l'illuminante di Essence poi come sulle labbra vi faccio vedere la combo che ho utilizzato che mi avete richiesto in tante che è lo Stay Matte di Essence lo 02 Smooth Berry vi faccio vedere se riesce il colore ma secondo me fallisco miseramente e risulta rosso come da questo video allora questo è il praticamente è il colore questo qua di Essence e sopra ci ho applicato il 15 dell'acqua rouge di Makeup Forever il pink faccio seccare un secondino il il prodotto e vi faccio vedere miscelati questi due colori che bel colore si ottiene però vi ripeto vi rimando alla foto e speriamo che riesco a mettervelo a fine video tramite l'editing e poi vabbè sopra ci ho applicato il lucido e niente questo è davvero un look molto molto semplice come mascara ho utilizzato il Colossal di Maybelline e vi ripeto molto molto semplice le sopracciglie realizzate con la matita per sopracciglie di Makeup Forever la 03 e davvero non non dimentico nulla il prezzo di questa palette mi sono dimenticata di dirlo è intorno ai 45 euro se non erro anche perché è un regalo ma mi pare costasse intorno ai 45 euro molto molto bella davvero mi ha colpito subito da quando l'ho vista su Instagram perché l'ho vista la prima volta su Instagram alle guru americane da loro costa molto molto di meno e l'avevo vista tipo mesi fa da noi è arrivata da poco e correte a prenderla se vi interessa perché è un'edizione limitata che aveva anche dei comprendeva anche dei matitoni e dei blush molto molto belli aspetto insomma che mi si secca e adesso ci vado ad applicare su questo rosa è questo qua cioè non capisco perché sulle labbra mi sembra rosso mentre sulla sulla pelle delle mani no bah i misteri della vita che come potete vedere esce fuori questo rosa corallo molto molto bello invece sulle labbra mie sembra rosa rosso vabbè questo è il colore sono contenta che facendo questo esperimento si vede insomma che molti di voi mi hanno chiesto che rossetto avevo e ho detto che era una combo ed è questa combo qui e sopra poi ci andavo a mettere il glossino quando le labbra insomma mi si seccava mi si seccava il prodotto mi si asciugava il prodotto ci andavo a mettere il glossino e niente ragazze io spero che con questa review vi sono stata utile cercherò di mettervi a fine video la foto delle foto degli swatch con il flash e senza flash io mando un bacio di Eleonora la ringrazio per aver accettato questa collaborazione mando un bacio a voi grazie grazie per tutti i complimenti che mi fate grazie a tutte le nuove iscritte grazie per tutti i commenti che mi iscrivete siete carinissime vi voglio bene e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze grazie a tutti